A mio fratello Riley per il suo brevetto di buono! Ma dov'è quel gran coglione? Alla carta di credito di mio padre e alla mia! Oddio, non bevo Sambucca da quando avevo vent'anni! Sì! Sono il re del ballo! Andiamo! È morto, cazzo! Trocca la porta! Presto, Gesù! Sari! Tu sei pazzo, Jay! Ho imparato dal migliore! Così siete pazzi, eh? Saltate dagli aerei... Volate... Come uccelli! Come uccelli! Cazzo che matti! Mi piace questo! È proprio un bel telefono! Allora... Cos'abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Grant... E Jason... Dalla California! Spero che papino e mammina vi vogliono tanto bene! Perché i vostri culetti firmati promettono grana! Ed è un bene perché mi piace! La grana! Scusa, cazzo, hai detto... Hai detto... Vuoi che ti apra il culo in due come ho fatto con il tuo amichetto? Tappati quel cesso! Ok? Quello con i coglioni sono io! Guardami! Guardami dritto negli occhi! Ehi! Stronzo! Guardami negli occhi! Tu sei la puttana! Io qui sono il fottuto re! Non una sola parola! Oh, muori! Cosa c'è, Jason? Jason, dimmi! Perché non ridi come facevi lassù? Dici che non ti diverti più, forse non ti sto simpatico! Vedi, il fatto è... Lassù, credevi di avere una chance! Là, tra quelle nuvole di merda, tu pensavi davvero di avere il dito sul grilletto! Ma, hermano... Quaggiù... Hai il culo per terra? Ok, ora mi dò una calmata perché tu... Mua! E il tuo fratellone? Ci divertiremo un sacco mentre aspettiamo i soldi! Non spaventare gli ostaggi! Devi occuparti dei rifiuti! Spero che voi due pezzi di stronzi siate più simpatici degli altri! A te! Bye bye! Cazzo, funziona tutte le volte! Ficco di puttana! Sei ferito? Non credo... Dobbiamo trovare gli altri! Come? Ci sto pensando! Chiamala, guardia! Che? Chiamala! Ora! Ehi, di qui! Che cazzo? Oh! Voi dovete stare zitti! Oh, Cristo, morto! Me l'hanno insegnato nell'esercito. Seguimi! Cazzo, 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 cazzo... Jay, tutto ok? Sì, sì, tutto ok. Avanti! Stai giù! E' da pazzi! Perché mai dovrai mentire? Stai facendo il coglione! Cazzo... I suoi sono ricchi! Faremo più soldi con lui che con tutti gli altri! Sì, sì! Sì! Oh! Rottura di coglione! Guarda qui! Questa non è la vita da pirata che immaginavo! Merda! Cani! Aspetta, stop! sta zitto stai buono l'uomo 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 Ehi, chi è? Continua. Cazzo. Cazzo. Fermo. Cosa? Cristo. Dobbiamo farlo andare via. Tira un sassolto. Ok. Azione. Ok, ha funzionato. Muoversi. Ok. Arrivo. Oh, cazzo. Ho sentito. Ehi! I prigionieri sono andati! Sei spacciato! Sì, sì. Già! Muore! Continua. Oh, cazzo. Cazzo. Cosa? Dio, cazzo. 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 Oddio. Non ce la faccio. Grant. Jay, 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 Jay. Ascoltami. Bisogno di te per trovare Lisa, Riley e gli altri. Stacci dentro. Cazzo. Ok. Ok, scusami. Ok. 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 Ne sono tantissimi, Grant. Cazzo. Quel... E così eravamo là, e non ti è arrivato. E men che non si dica, era lì con altri due. Via, 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 via. Ora, fai tra le piazze. Sì, sì. Bella idea. Questo è un incurzzo. Un cazzo d'incubo. Il superasco orlevole ha trovato per fare tutto. Nessuno può fermarti. Con questa pistola, se la punti alla testa di qualcuno, si accorgerà che fai il suo senso. Interessante! Bene. Andiamo. Ok. Avevo sentito qualcuno. Quella roba è buon sottile. Dove? Non porti a me. Vai qua dentro. Non posso farti niente. Non posso farti niente. Non posso farti niente. Grazie a tutti.